io dico che Sarri ha fatto una scelta è chiaro che questo gruppo va gestito nel senso che non ci sono in panchina delle grandi, cioè io dico se il Napoli avesse avuto gli infortuni, le defaianze che ha avuto la Juve o altre squadre credo no, di giocatori importanti credo che se la sarebbe a questo punto bravissimo, quindi io dico che Sarri sta facendo veramente miracoli nel gestire il gruppo, inevitabilmente con il tour de force di partite importanti e in un momento fondamentale della stagione come questo si deve gestire le forze, quindi ha preferito mettere, scusami, il Napoli, diciamo delle seconde linee, diciamo il Napoli BX no, di russo, cioè voglio dire però è un Napoli che fino all'ottantaduesimo aveva fatto la partita, un Napoli che poteva passare in vantaggio, un Napoli che... vedi, vatti per...